Dopo quanto tempo hai iniziato a vedere risultati che hai iniziato a pubblicare sui social? È stato veloce ma nello stesso tempo è una scalata progressiva, li ho visti a distanza di un annetto, ho cominciato a vedere i primi risultati con una bella costanza. Qual è il segreto di Instagram? Tu devi pubblicare, se vuoi avere successo, se vuoi piacere, che poi non è che devi piacere, o piaci o non piaci. Devi essere polarizzante e soprattutto devi essere te stesso. Devi pubblicare, pubblicare non solo il tuo lavoro, ma anche la tua vita personale. Alla fine si chiama personal brand. Infatti da fiducia si chiama personal brand. Chi non mette la faccia, ti mette magari solo l'orologio, ragazzi non porta a grandi risultati. Tu ti fidi, se a me spediscono da tutta Italia senza conoscermi realmente, mi conoscono grazie a questo telefono, però mi spediscono orologi da 50 a 100 mila euro sulla parola. Me lo spedisci, io lo controllo, io te lo pago. Ma ci rendiamo conto? Vuol dire avere una fiducia smisurata, non è semplice. È stata creata con tanti sacrifici durante questi pochi anni. Qual è stato l'orologio più costoso che hai venduto? Anzi, e te l'aggiungo anche un'altra, qual è stato l'orologio che ti è dispiaciuto più vendere anche? Più vendere, no, no, dopo un po' ti passa tutto. Non mi affeziono più agli orologi, assolutamente. Prima inizialmente sì, adesso ne vedo passare talmente tanti che non mi affeziono più, venderei tutto. Io, ok, ho una mia collezione personale, orologi comprati durante gli anni, stivati e messi lì, però se mi fanno una proposta di vendita anche al giusto prezzo di mercato, io vendo tutto, qualsiasi cosa. E' il più costoso? Patek Philippe, l'ultimo che ho venduto quest'anno è stato un Patek Philippe completamente, cos'è, un 57, non mi ricordo la referenza, scusatemi. Tranquillo. Era più importante i soldi. Vabbè, però venduto a 400 euro e ottimi l'euro. E invece la, diciamo, gaffa più grande che hai fatto dal punto di vista di orologi o l'errore più grande? Oddio. Magari hai comprato qualcosa di sbagliato, falso, fregature. Sì, sì, mi è capitato di aver comprato, in sei anni che faccio questo mestiere, soprattutto all'inizio, ho comprato cinque orologi falsi comprati per buoni. Comprati per buoni, ovviamente. È un periodo iniziale del tuo percorso. Sono il periodo iniziale, sì. Economicamente com'è stato? Perché se all'inizio magari quando mi hanno messo... All'inizio mi hanno messo in ginocchio, ero riuscito a mettere via un mio piccolo capitale e ho ricominciato da zero, nuovamente. E ti parlo del primo anno, il primo anno e mezzo di attività. Ho imparato da questa lezione, cosa ho imparato? Ho imparato a non fidarmi nessuno, assolutamente. Vaiano si impara. Qual è la tua strategia nell'acquistare il giusto? Acquistare al prezzo giusto. Più che al prezzo giusto anche il quantitativo giusto, perché non esporti troppo economicamente magari. Adesso magari è meno un problema, perché comunque è più cassa, ma magari in un periodo iniziale. Allora io ho sempre, per non andare in una bolla di stress, io cerco sempre di mantenere una cifra considerevole sul conto corrente, sotto la quale non vado mai, sotto questa cifra non vado mai. E ad oggi bilancio bene, nel senso che tengo un magazzino pari al 70-80% rispetto all'intero capitale. E bilancio, bilancio. Bisognerebbe cercare di portare 50% il magazzino e 50% conto in banca. Ma non è facile, perché le proposte che ho ogni giorno sono tantissime. Io spendo veramente tanti soldi. I neologi solo stamattina, prima di venire qua, 120-130 mila euro spesi. Ci sono giorni che spendo 200 mila euro e magari ne incasso 100. Quindi bilanci sempre. Quando vedo che sto andando fuori rotta, mi fermo e non compro più. Non compro mai al di sopra delle mie possibilità. E questo è l'errore che fanno tanti tanti commercianti. Comprano fino a rimanere a stecchetto, senza soldi. Poi se non vendono ti ritrovi un attimino impiccato. Prima all'inizio, quando ti ho fatto la domanda del re dei orologi, hai parlato molto bene anche dei tuoi competitor, dei tuoi colleghi. Invece loro che rapporto hanno con te? Io ti dico, io sono uno che si fa fondamentalmente i cazzi popi. Non guardo mai nel piatto degli altri. Ma soprattutto all'inizio, quando sono esploso nel mio settore, ho ricevuto critiche negative di ogni tipo. Allora, mi dicevano che lavoravo con i soldi prestati della mala di giù. Mi dicevano che di ogni, me l'hanno detta, veramente di tutti i colori. Che erano soldi prestati, addirittura c'era dentro mia moglie che mi ha messo lei i soldi perché io non ne avevo. Ragazzi di giù, prestiti con tassi da usura altissimi. Di ogni me l'hanno detta. Per cui ho sempre cercato di farmele entrare da un orecchio e farmele uscire dall'alto. Non ho mai dato troppo peso, anche perché essendo così in vista, se dai troppo peso a quello che ti dicono le altre persone non vivi più. Tuttavia non lavoro con commercianti, io lavoro solo con privati. Per cui quello che dicono non mi interessa. Rimango sempre della mia opinione. Io ad avanti per il mio, trasparente. Poi quello che contano sono i numeri, nero su bianco. E di quello non nessuno può dire niente. Ma a parte il fatto dello status, appunto, dell'avere un orologio di valore, qual è secondo te la cosa che spinge le persone a voler spendere così tanto magari su un orologio? Eh, ti dico, è un po' anche la paura di tenere fermi i soldi sul conto corrente. Quello è uno dei motivi. Siamo purtroppo in Italia, in Italia tutto è possibile. In negativo parlo. Te lo dice una persona che, cazzo, è arrivato da non pagare niente, da non avere un lavoro, a dover vedere via dal conto corrente un milione di euro in tasse. Quest'anno mi ritrovo a dover pagare circa un milione di euro di tasse, senza contare tutto il resto che pago durante, che verso durante l'anno. Per cui non lo trovo giusto, soprattutto anche per quello che non hai comparato alle cifre che versi, per cui ti dico, in Italia oggi fare impresa è difficile. E i privati vengono spinti da un terrorismo psicologico, da una paura a tenere i soldi sul conto corrente che li spinge a far fuori tutto, a comprare. E invece parlando anche del discorso che anche andare in giro con gli orologi è un certo valore? È pericoloso. È pericoloso. Esatto. Oggi ne vedo tante. che purtroppo non può andare in giro, è un bene facilmente rivendibile al portatore, per cui con la fame di soldi che c'è oggi le rapine e i furti sono in aumento, anche perché non abbiamo, francamente, non voglio dare la colpa al sindaco, però non abbiamo una sicurezza, non abbiamo una gestione della sicurezza comparata al grado di delinquenza che c'è a Milano. Milano più delle altre città oggi.